salve ragazzi oggi come vedete abbiamo accanto il tavolo tavolo grande perché oggi vi devo parlare di un oggetto e nel mio solito tavolino in cui faccio le recensioni di oggetti piccoli tipo orologi o altri dispositivi questo oggetto non ci sta in particolare oggi parleremo di accessori fotografici e di un kit di illuminazione composto da due pannellini a led premetto subito che l'oggetto non è un oggetto di qualità in quanto io ho poca disponibilità da investire su questo canale un canale con mille iscritti cerco di migliorare un pochino diciamo le alcune caratteristiche dei filmati del canale ma non è che ci posso investire centinaia e centinaia di euro per cui nelle mie scelte vado a cercare oggetti che non costino troppo ma che comunque mi possano garantire una certa funzionalità adesso vediamo di cosa si tratta prima però andiamo sul sito dove ho acquistato il kit che è amazon e vediamo anche subito quanto costa ecco la pagina di amazon in cui ho effettuato l'acquisto come vedete è un kit di due pannellini led con due supporti selfie stick che vengono utilizzati come treppiedi e il kit come vedete ha un costo veramente minimo credo sia uno tra i kit con due illuminatori dal prezzo più basso su amazon probabilmente questo stesso kit è riuscito a trovarlo anche su degli e commerce cinesi ma io ho preferito acquistarlo su amazon perché vista diciamo la delicatezza degli oggetti in questione potopoli vedremo nel dettaglio avevo paura e con il trasporto si potessero danneggiare adesso andiamo finalmente sul tavolo grande e vediamo di cosa si tratta buona visione ecco la confezione che contiene tutto il kit è una scatola abbastanza pesante perché è concentrata e piena di oggetti adesso ve li farò vedere premessa la newware è un'azienda cinese credo che produce accessori fotografici di qualità medio bassa per cui come vi ho già detto e anticipato nell'introduzione non vi aspettate oggetti di qualità non vi aspettate oggetti robusti che possano essere sbatacchiati io questo oggetto qui lo utilizzo qui all'interno della mia stanza salto ariamente in qualche caso non sempre per cui ho preferito optare per il massimo risparmio possibile una volta e mi sono accertato e dalle recensioni l'oggetto funzionava correttamente vediamo qui sul tavolo tutto il contenuto di questa piccola ma concentrata confezione dunque vi faccio vedere gli oggetti uno per volta ovviamente non ve li faccio vedere tutte e due tenete presente di ogni oggetto vi faccio vedere in realtà nella confezione ce n'è un altro identico è una coppia è un kit formato da una coppia di illuminatori il primo elemento quello più importante è l'illuminatore come vedete è un semplicissimo pannellino a led sono led smd non ci sono led cobb non c'è nessuno sistema particolarmente sofisticato pannellino che non ha nemmeno il vetro è completamente scoperto anche perché qua c'è una fessura ok che praticamente nella quale si inserisce poi lo schermo lo schermo o lo schermo colorato oppure lo schermo come questo qui che è uno schermo latticinoso e serve appunto per la diffusione della luce per cui una cosa veramente molto molto semplice pannellino con struttura estremamente leggera è attenzione ci sono dei fori di areazione su tutti i lati ma la struttura è veramente in plastica molto molto leggera per cui chiaramente questo è il classico pannellino che se casca in terra e vabbè praticamente si distrugge ecco perché vi dico che non sono oggetti adatti ad essere utilizzati all'esterno e trasportati all'esterno ovviamente il pannellino ha il solito classico attacco da un quarto di follice il pannello ha una temperatura di colore di circa 5600 helvin per cui è la stessa temperatura di colore della luce solare ok e questa temperatura di colore può essere variata utilizzando questi schermi colorati abbiamo uno blu anzi due blu uno per ogni pannello due gialli ok e due rossi eventualmente io lo utilizzo con quello neutro bianco con la superficie diciamo corrugata latticinosa perché secondo me è la temperatura di colore più giusta e più adatta il pannellino di colore ha un semplicissimo sistema di regolazione di luminosità tipo interruttore passafilo proprio vedete cioè si connette direttamente a un alimentatore usb ok vedete c'è la c'è la sua presa chiaramente usb tipo a ok e qua c'è una specie di passafilo poi dopo vedremo il pannellino acceso per capire un po che tipo di luminosità può fornire con un interruttore semplicissimo a pressione on off e poi un dimmer per aumentare o diminuire la potenza niente di più semplice attenzione per alimentare questo pannellino qui diciamo che vi consiglierei un alimentatore uno che io tra l'altro ho anche già recensito che abbia una potenza di uscita ovvero sia anche un carica batterie per uno smartphone ma che abbia una potenza di uscita effettiva sulla presa usb di almeno 3 ampere per ogni presa perché il pannellino assorbe un po pur essendo piccolino però ha un certo assorbimento se lo alimentate con un alimentatorino con un carica batterie troppo piccolo vedrete il il pannello flickera cioè praticamente non non ce la fa a rimanere acceso andiamo avanti andiamo avanti troviamo per connettere il pannellino tramite la presa da un quarto un economicissimo snodo con testa a sfera dove abbiamo appunto il maschio da un quarto e dall'altra parte abbiamo la femmina da un quarto di follice e questo può servire o meno dopo vedremo perché io personalmente non lo uso perché attacco il pannello direttamente sul suo supporto terzo elemento che troviamo nella confezione è un treppiede in plastica molto semplice ok con attacco a un quarto di follice che si apre e fornisce la base d'appoggio piuttosto larga e direi anche abbastanza stabile per il selfie stick che poi contiene il diciamo ospita in cima il pannellino a led ultimo elemento e questo io lo valuto molto positivamente perché questo è un selfie stick praticamente no ma è un selfie stick e io di questa tipologia qui di selfie stick ce n'ho già tre o quattro perché secondo me sono quelli migliori non sono quelli con l'attacco tipo antenna telescopica ma sono quelli che per essere bloccati sono prima di tutto completamente in alluminio ok e poi sono quelli che per essere bloccati basta girarli in senso orario e per essere sbloccati si girano in senso anterario io li reputo quelli più robusti ora in sovraimpressione vi metterò l'altezza massima a cui può arrivare questo selfie stick ovviamente l'utilizzo è intuitivo noi mettiamo il treppiede lo avvitiamo sulla base del selfie stick saldamente apriamo il treppiede e poi estraiamo tutti i vari elementi 1 2 e 3 e blocchiamo il pannellino lo avvitiamo qua in cima ora come vedete in cima abbiamo un praticissimo attacco tipo gopro che oltretutto questo selfie stick si può utilizzare anche per tenere uno smartphone o una gopro per cui noi il pannellino in realtà non avremo bisogno di utilizzare questo snodo a sfera ma basterà semplicemente avvitarlo in cima al al diciamo al selfie stick e poi lo potremo orientare e eventualmente inclinare in un senso o in un altro adesso vediamo in un minuto diciamo il pannellino montato sul supporto che luce fa allora adesso facciamo una prova pratica come vedete adesso c'è soltanto accesa l'illuminazione proprio del del lampadario e basta ho spento anche l'illuminatore che avevo già qui sopra sul 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 tavolo accendiamo soltanto il pannellino un pannellino tenete presente con due pannellini ovviamente la resa è doppia accendiamo siamo al minimo ora siamo vedete siamo al minimo adesso vado ad aumentare piano piano la luminosità ora questo questo dimmer che c'è qua sul pannello sul collegato al pannello può funzionare in due modi o in modo continuo se tenete premuto il più o il meno la luce aumenta o diminuisce gradualmente altrimenti potete premerlo e rilasciarlo e ci sono degli step diciamo di aumento o diminuzione della potenza vedete qua sono praticamente al secondo livello terzo livello quarto livello quinto livello sesto livello settimo livello ottavo livello nono livello e qui mi sa che sono arrivato al massimo vediamo un po no ce n'è un altro ancora 11esimo livello ecco così sono arrivato al massimo della luminosità beh insomma come vedete voglio dire pur essendo un pannellino piccolino con dei normalissimi led smd ma di luce ne fa veramente tanta tenete presente che se ne mettete due io riesco con due pannellini con questi due pannellini qui messi alla distanza di circa un metro e mezzo due metri l'uno all'altro orientati correttamente a illuminare in modo adeguato un green screen che ha un'ampiezza di circa due metri per tre per cui insomma ecco sono pannellini piccolini ma funzionano bene sono molto sono molto diciamo potenti ecco perché ripeto è bene utilizzare un un diciamo un carica batterie o un alimentatore da almeno 3 ampere perché sennò questi pannelli veramente non si accendono neanche adesso cerco di farvi vedere in maniera un po più ravvicinata con l'autofocus se mi riesce di farvi capire qual è la qualità effettiva di questo pannello cioè per farvi capire di che cosa stiamo parlando allora abbiamo come vedete vediamo un po se mi riesce di farvi eh sì si vede abbiamo una matrice di 11 per 6 cioè 66 led smd ok che sono montati su una tavoletta di materiale diciamo che aiuta a raffreddarli ok vediamo abbiamo un'intelaiaturina in plastichina veramente guardate molto 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 leggera ok qui abbiamo la feritoia che vi ho detto prima che serve per far passare vedete il lo schermo bianco bianco lattiginoso o colorato a seconda di quello che volete montare abbiamo semplicemente qui in basso un controdato con filettatura da un quarto di pollice abbiamo il retro eh del pannellino anche questo in materiale plastico veramente leggerino 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 eh con delle con delle con delle diciamo forature che servono a farlo raffreddare io questo qui l'ho tenuto acceso per un'oretta circa eh durante un filmato una recensione della vaporezzo ma e non mi ha dato assolutamente nessun problema come vedete la potenza indicata qui è di 10 watt per cui insomma ecco eh vedete ve lo metto a favore di camera ecco sono 10 watt per cui chiaramente ripeto ci vuole un alimentatorino o un caricabatterie di una certa importanza ecco questo insomma è tutta la consistenza del pannello per cui si tratta veramente di un aggeggino proprio cinese letteralmente cinese ma che se si usa con la dovuta diciamo cautela con la dovuta cura senza sbatacchiarlo in quella funziona tranquillamente senza assolutamente nessun problema torniamo sul in primo piano e vi dico diciamo le le conclusioni generali allora siamo arrivati alla fine di questo filmato conclusioni a me personalmente per l'uso ne devo fare io questo pannello questo diciamo kit con due piccoli illuminatori va più che bene perché mi illumina come vi ho detto tranquillamente un green screen mi illumina correttamente un tavolo e qualche scena un po più ampia che non riesco magari a illuminare con la solita ring light per cui a me va benissimo ovviamente si tratta di un oggetto di qualità no non è un oggetto di qualità è un oggetto a basso costo che per durare nel tempo deve essere trattato in un certo modo chiaramente non ce lo possiamo portare in giro sbatacchiarlo in quella si trova di meglio sicuramente si trova di molto meglio ma secondo il mio punto di vista un canale con mille utenti è assolutamente sciocco andare a investire cifre astronomiche in attrezzature anche semi professionali ok perché non ha alcun senso questa è un'attrezzatura più che sufficiente e credo che molti youtuber come me minori e hanno canali con poco più di mille iscritti la pensino come me comunque ognuno è libero di pensare e di comprare quello che vuole io mi auguro che questo oggetto vi sia piaciuto che abbiate diciamo trovato la cosa interessante e vi do appuntamento al prossimo filmato che riguarderà comunque un altro accessorio per la fotografia si tratterà appunto di un green screen sarà un po più complicato da spiegare forse ma insomma spero che vi piaccia anche quello se volete vi potete iscrivere al mio canale sulla piattaforma odisee mi fate sicuramente piacere vi do appuntamento al prossimo filmato ciao